Il TAR della Regione Puglia ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal Codacons Lecce sull'ordinanza del 28 ottobre. Dunque rimane in vigore la nuova ordinanza emessa dal Presidente Emiliano e le famiglie possono decidere se mandare i figli a scuola o seguire la didattica a distanza. I dettagli nella scheda dedicata all'aggiornamento dell'emergenza sanitaria. Le scuole della Regione Puglia rimangono aperte ma le famiglie che lo ritengono opportuno possono chiedere di applicare ai figli la didattica a distanza. Rimane dunque in vigore l'ordinanza 413 dello scorso 6 novembre con cui il Presidente Michele Emiliano ha superato l'ordinanza 407 del 28 ottobre che decretava la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Dichiarando l'improcedibilità della richiesta cautelare che contestava l'ordinanza 407 e presentata dal Codacons Lecce il Tardibari ha quindi preso atto dell'ordinanza 413 con cui le famiglie possono scegliere e ha concluso il procedimento. Dichiara di essere molto soddisfatto Michele Emiliano perché sostiene l'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo ha legittimato la didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario. Intanto per Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco i dati comunicati sui vaccini hanno generato un po' di diffidenza perché i dati da vicino ancora nessuno li ha visti. Affinché siano condivisi ha dichiarato i dati vanno sulle riviste scientifiche poi le agenzie regolatorie li valutano nel modo più dettagliato e critico. Il riferimento al 90% o al 94% è interpretabile in vari modi. Sono purtroppo comunicazioni difettose. Solo dopo che le avremo potuti guardare in dettaglio e resi credibili saranno da comunicare nel modo dovuto. I dossier degli studi di cui parlano i giornali non sono ancora giunti e dovrebbero arrivare all'Agenzia Europea nelle prime settimane di dicembre. Poi penso che un'agenzia seria debba valutarli con calma e serietà nell'arco di alcune settimane. Ha concluso. Invece in attesa del vaccino, dopo la richiesta avanzata ieri dal presidente della regione Michele Emiliano al ministro della Salute Roberto Speranza di dichiarare rosse le province di Foggia e Bat, è intervenuto il sindaco della città Dauna, Franco Landella. I dati dei contagi Covid su Foggia sono riconducibili a zona rossa. Io contesto però l'applicazione del provvedimento su scala provinciale. Sarebbe più opportuno prevedere singole zone rosse cittadine, ha detto. Non bisogna penalizzare un intero territorio provinciale. In Capitanata, ad esempio, ci sono zone con contagi bassissimi, aggiunge Landella. A questo punto andrebbe chiusa anche la città di Bari che sta registrando numeri alti di casi Covid.